Mamma mia raga i nostri usati mi fanno veramente battere il cuore fortissimo Questa è Fiat 500 S, vediamola subito Ragazzi questi sono gli interni molto fighi davvero Ragazzi lei è Fiat 500 Sport, 1.2 di cilindrata con 69 cavalli Questa la trovate con cambio manuale, motore e benzina Ha un sacco di tecnologia, c'è ovviamente Uconnect C'è anche il tettuccio panoramico raga, una figata La trovate usata con 45.000 km, davvero un ottimo usato raga Coprite la tour a tauto.com, il link lo trovate in descrizione Grazie per aver guardato il video, alla prossima, ciao